eccoci qua ci troviamo nello studio di radio vacanze in compagnia di Gianluigi ciao sono Gianluigi e vi do il benvenuto nella sede delle radio vacanze dell'agenzia viaggio e vedo sono un agente di viaggi da 20 anni e ho un'esperienza nel turismo circa trentennale tra trasporto aereo e turismo recettivo biglietteria e programma Gianluigi fa l'agente di viaggio a 360 gradi ovvero essendo una persona nata con nell'era non digitale ha portato l'esperienza acquisita nei tempi passati tutto il nuovo tutto il bagaglio e l'ha portato nell'era digitale perciò serve le persone con al centro il loro valore e la loro individualità e da il servizio da gente di viaggio moderno chi lo fai? beh lo faccio per le persone che hanno voglia di scoprire ancora il turismo che sono innamorati del viaggio e soprattutto lo faccio per chi ha valore per le proprie vacanze e mi metto al suo servizio perché al centro comunque c'è l'uomo sempre cosa ti differenzia dagli altri? oh semplice il valore che io Gianluigi viaggio e vedo e radio vacanze diamo alle persone perché vengono prima di ogni altra cosa grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti